Allora, prima di andare a vedere i problemi di massa minimo vincolato in R3, andiamo a dimostrare un chiarema che abbiamo appunto già citato, il chiarema dell'ultimo, faremo prima il caso bidimensionale, qua facciamo il caso bidimensionale. Addirittura sul libro di testo fa anche il caso in R3, ma lo giudico poco utile, la dimostrazione è diversa, ma ci conviene fare un caso bidimensionale per capire un po' le idee fondamentali e poi diciamo direttamente nel caso generale. Allora, cosa dice questo teorema del primo? Dice che noi abbiamo una funzione F definita su A a valore di M, F appartiene al C1 di A e A è un aperto A o di M e R3, poi dice che F, allora x con 0 e x con 0 appartiene da A, che è un punto di A, che è diversa, x con 0, x con 0 è uguale a 0. Poi dice anche che la derivata parziale di E rispetto alla x con 0, x con 0 è diversa da 0. Io per semplicità metto maggiore di 0, se non posso inventare il ragionamento, la funzione di crescere quando... ecco, questa è un'altra cosa che poi ricordatevi che poi dobbiamo scoprire, che c'è una conseguenza molto importante che quando riguarda i problemi di massimo e minimo. Cioè, studiare il segno delle derivate parziali può essere utile. Cioè, qual è la cosa utile? Sapere che se la funzione qui, in un punto, ha il derivato parziale rispetto a x un po' di d'infra, se io mi muovo da quel punto lungo la coordinata x, la funzione di qua aumenta e di qua indirisce. È chiaro? Allora, questo è anche un altro principio molto semplice, che però può essere usato per capire un po' quando avremo un problema di massimo e minimo insieme a t, più o meno dovrai andare a cercare il massimo e andare a cercare il minimo, se vuoi evitare di cercarlo su tutta la fontina. Va bene? Però, su questo ci torneremo. Quindi, queste sono le ipotesi del teorema del mezzo. Qual è la tesi? Allora, esiste un intorno di x con 0, un intorno di x con 0, tali che, u e v, quindi lo sove gli intorno di x, sono intorno di x con 0, x con 0, istrettivamente, per ogni x appartenente a u, esiste un unico x uguale f piccolo di x. che è di x appartenente a u, tali che f grame di x è di x, è un unico x. Allora, faccio una figura così si capisce a me. Allora, voi avete che in questo punto f grame di x con 0, y con 0, fa 0. Allora, vi dice che c'è una finestrella, qua c'è una, qua ci sono gli assi, per esempio. vi dice che c'è una finestrella attorno a x con 0 e attorno a y con 0, tale che in questa finestrella l'insieme dei punti che annullano la funzione f grande, dei punti x, y, è il grafico di una funzione, non è x, y, è x e f di x. Cioè, per ogni x, questa è x, c'è un unico valore, tale che f grande x è f di x fa 0. Quindi, su tutto questo segmento qua, di punti che, dove si annullano la funzione f grande, ce ne sta uno. E' chiaro che potrebbe non succedere, perché se per esempio l'insieme di 0 è fatto così, io vado a vedere questa finestrella, qua non va bene, qui ce ne sta, sono due graficamente. Però, se stringo la finestrella, funzioni, va bene, ok, non solo, la funzione x appartenente a 1, f di x appartenente a 2, è di classe c1, su, e in particolare, f primo di x con 0 è uguale a meno 10, calcolato con 0, fra 10, calcolato con 0, fateci caso che questo è diverso da 0, 15, quindi non è possibile sbagliarsi su chi deve mettere la numeratura e che deve mettere la denominatura, perché se l'unica cosa che sapete con certezza in diversa serie è questa, non l'altra. Chiaro? Quindi questa è l'enunciata, la tesi del teorema del teorema. Allora, facciamo la dimostrazione. Una prima parte della dimostrazione si può fare pure a parole, nel senso, può rendere rigolosissima, cioè, ma è già abbastanza rigolosa detta a parole. Allora, cosa sappiamo noi? Sappiamo che in questo punto la funzione vale 0, ma sappiamo che in questo punto, perché, cosa facciamo? Per prima cosa, sappiamo che questa funzione qua è di classe c1, quindi ci andiamo a prendere un rettangolino, precisamente questo qua, dove il rettangolino lo posso prendere aperto o anche chiuso, perché ogni volta che prendono intorno, dico x con 0 meno delta, x con 0 più delta, x con 0 meno e, x con 0 più e, x con 0 più e, x, posso prendere un rettangolino, abbastanza piccolo, tale che questa qui, per continuità, se è la diversa maggiore di 0 qua, sia maggiore di 0 più di rettangolo. Quindi, cominciamo la dimostrazione, mettiamoci un pezzettino di dimostrazione qua, r è uguale a x con 0 meno delta 1, x con 0 più delta 1, che attesiamo y con 0 meno delta 1, x con 0 più delta 2, e f in dx, è calcolato in xy, è maggiore di 0 però xy, appartemente a r. Quindi, in tutti i punti di questo rettangolo, quando andrò a fare il minimo di questa funzione su questo rettangolo, siccome questo è chiuso, quindi è compatto, il minimo di questa funzione su questo rettangolo sarà strettamente positivo, perché deve essere il valore di un punto, il valore di tutti i punti è positivo. Allora, andiamo a vedere che succede. Prendiamo questa linea verticale qua, cioè questa linea verticale tiene, sono i punti che hanno coordinato x con 0, mentre la y con 0 è tra y con 0 meno delta 2 e y con 0 più delta 2. Andiamo a prendere questo punto qua, questo punto qua che è x con 0, y con 0 meno delta 2. Quest'altro punto qua è x con 0, y con 0 più delta 2. Allora, io dico, su questo punto qua, il valore della funzione è com'è, secondo voi. Ricordate che la derivata rispetto a y è la positiva, su tutti i punti di questo rettangolo. Quindi, questa qua praticamente si sposta in una sola variabile, la derivata in quella variabile è positiva, quindi se la variabile scende, il valore della funzione scende, se parte da 0, per scendere deve avere un valore negativo. E per lo stesso motivo, da quest'altra parte, il valore è così. Quindi, possiamo dire che f di questo è negativo, possiamo dire che f di questo è positivo. Però, però, adesso posso dire che è positivo su tutto il lato superiore? no, perché io, ragionamente l'ho fatto qua, qua non so, gli altri 0 io ancora non li so, io conosco solo questo 0. Chiaro? Quello sarà la fisica. Io conosco solo questo 0. So che qui la funzione è male 0. però, per un po', sempre che continuiamo, la funzione, si deve mantenere, positiva e negativa, sopra e sotto. Cioè, non può essere, se è negativa un po', perché il terreno è per il manizzare il segno, deve essere negativa in tutto il ritorno. E un ritorno contiene un seguitino un po'. Lo stesso discorso deve essere positiva in tutto il ritorno, che contiene un seguitino. Dicendo questo punto, sarebbe a dirlo. Acceliamo le cose, continuiamo la dimostruzione da questa parte. Quindi, esiste delta primo 2, minore di delta 2, tale che f di x con 0, virgola, y di, y, no, scusate, f di x, y con 0, quindi delta primo 1, minore di delta 1, no? Perché, vedete, io, qui voglio rifilare, il mio rettangolo, tagliando due ali, praticamente. f di x, y con 0, più delta 2, è positivo per ogni x, y, o per ogni x, compreso tra x con 0, meno delta primo 1, x con 0, più delta primo 1, mentre f di x con 0, meno delta 2, è migliore di delta 1, sempre per gli stessi. Cioè, se io, invece di prendere delta 1, prendo delta primo 1, cioè prendo una base per questo rettangolo, più piccola, posso sicuramente fare in modo che, sul lato inferiore, la funzione sia sempre negativa, e sul lato superiore, la funzione sia sempre così. Non solo, ma, df in dx, calcolato in xy, risulta ancora maggiore di 0, però xy, appartenente a r, cioè, x con 0, meno delta primo 1, x con 0, più delta primo 1, calcolato in x con 0, meno delta primo 1, x con 0, più delta primo 1. Ok? E, in particolare, il minimo di per xy, appartenente a r, di df quindi dx xy, questo minimo lo chiamo lambda, oppure questo lambda è positivo, perché questa funzione è, il minimo deve assumere da qualche parte, il problema di Weinstrasse, siccome tutti i punti è positiva, anche il minimo sarà positivo. Ok? Adesso, andiamo a guardare, dimentichiamoci del rettangolo r, quindi cancelliamolo con la presa, solo con così, e lasciamo soltanto il rettangolo r, più. Allora, in questo rettangolo r, meno, noi sappiamo che df in dy è sempre maggiore di zero, su r, su tutte le due, e poi abbiamo, che sul lato superiore la funzione assume valori positivi, e sul lato inferiore assume valori negativi. Non posso scrivere così, per ogni punto è difficile, ci scrivo tutti più sopra, tutti meno sopra, si capisce. A questo punto, cosa succede? Prendete un qualunque segmento verticale, su questo segmento verticale, si muove solo la x, quindi se io vado a fare una funzione, prendo x, compreso tra x con 0, meno delta primo 1, e x con 0, più delta primo 1, e prendo la funzione f grande di x, se volete, qua ci potete mettere g di, non mi piace mettere x su, perché sembra una nota di parola, comunque, questa g di y, in realtà dipende dal parametro, se non è sempre la stessa. Devo scrivere ma è assoluto, perché c'è un barato, però non è una derivata. Allora, questa funzione però, se vuoi la derivata rispetto all'unica variabile di anzio, rispetto all'y, vi viene la derivata di f rispetto all'y. E quindi, che vuol dire? La derivata è positiva, positiva. La funzione qua è negativa, qua è positiva, per il trema di z, da qualche parte, qua almeno, si deve annullare. Quante volte si annullano? una volta sola, perché la derivata è assolutamente così, io, quindi la funzione riesce sempre. E questo vale, su tutti i secondi, quindi, per ogni, per ogni, lo scrivo qua sotto, e poi cambiamo la linea, per ogni x, appartenente a x con 0, meno delta 1, x con 0, più delta 1, esiste un unico x uguale a f di x, tale che f grano di x, f di x, è uguale. Allora, chi sarà? Chi sarà? Chi sarà? U e V. Allora, U, allora, avremo U uguale x con 0, meno delta 1, x con 0, più delta 1, e U uguale y con 0, meno delta 1, e poi c'è un 0, meno delta 1, y con 0. Dice, ma, prima le hai presi, presi, prima le hai presi, chiusi, ma li prendi aperti. Li prendo aperti, perché, per comodità, perché in genere, mi conviene, per parlare di, classe, C1, di avere gli aperti, però, in questo caso, essendo la cosa unidimensionale, perché è anche il 4.000, ma non è importante. Però, io ho dimostrato il terreno, ancora no, cosa mi manca a dimostrare? Mi manca a dimostrare che la f, qua sopra, è di classe C1, e mi manca a dimostrare in particolare che la derivata si fa così. La derivata, una volta che si fa così nel punto x con 0, si farà così anche in tutti gli appunti. Quindi, la derivata si calcolerà in questo modo. Questo si sarà bene, però, mi... cerchiamo di capire come funziona questa cosa. Prima voglio far capire questo discorso, cioè che non mi serve dimostrare questa, mi basso dimostrare questa formula nel solo punto x con 0, per quale manca? Se io dimostro che la funzione è di classe C1 in x con 0, in x con 0, x con 0, scusate, f piccola è solo di una variata, perché di classe C1 in x con 0, e dimostro che vale questa formula nel punto x con 0, negli altri punti è uguale, perché anche lì saranno soddisfatti localmente le cose del teorema del D, quindi, quello che mi interessa è dimostrare che la funzione è C1 in questo punto e che in quel punto vale la formula, perché? Perché una volta che l'ho fatto per un punto, gli altri punti le cose sono le stesse e valutate. Siccome sto su un'aperto, diciamo, una volta che C1 in ogni punto, vuol dire C1 in tutto questo. questo è il vantaggio di avere l'aperto. Quindi, andiamo a vedere però come fare a dimostrare il fatto che la F piccola è di classe C1 e che vale quella regola per la derivazione. non è immediata. Allora, guardate, io se faccio F grande di X F di X meno F grande di X con 0 Y con 0 che vi ricordo è uguale a F di X con 0 perché F grande di X con 0 di X con 0 fa 0 l'unico punto in cui l'unica combinata X in cui F di X con 0 Y fa 0 è questa e quindi questa è questa. Questo è 0 e questo fa 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 0 e F grande di X con 0 fa 0 tuttavia, io so che la F grande è di classe C1 quindi questo per il teorema di Lagrange è uguale alla derivata parziale di F rispetto a X calcolata in C1 C2 per X meno 0 più meno più F di X rispetto a in S la posso mettere sempre calcolata di C1 C1 E calcolata che moltifica F di X meno F di X F di X dove però per semplicità per non stare a diciamo ok mettiamolo in maiette dove si 1 meno X con 0 è minore di X meno X con 0 che si 2 meno Y con 0 meno F di X con 0 o Y con 0 la stessa cosa è minore di F di X meno F di X con 0 ok allora qui abbiamo una intuizione ma allo stesso tempo abbiamo un problema l'intuizione è questa questo qui è positivo perché abbiamo appena detto che su tutti i rettangoli era positivo siccome X1 e X2 sta un segmento che congiunge i due punti e sta sicuramente i due punti sono un segmento di rettangolo di rettangolo di rettangolo di rettangolo quindi questo qua sta in rettangolo e questo è positivo quindi siccome fa punto 0 posso dire che F di X meno F di X con 0 fra X per X con 0 è uguale a meno dF in dX calcolato in si 1 si 2 fratto dF in dX calcolato in si 1 si 2 ora devo stare attento perché adesso l'intuizione mi direte abbiamo fatto mandiamo X a X con 0 e allora questo tenderà a X con 0 questo tenderà a Y con 0 e quindi mi viene una forma quella tenderà la derivata no se ragiono così il ragionamento è errato per qual motivo? se mando X a X con 0 questa sicuramente manda X1 a X con 0 perché questo è la vera invece da quest'altra parte chi mi dice che quando X trete è X con 0 F di X trete è F di X con 0 non lo so è proprio quello che voglio cioè prima di dimostrare che sia derivabile devo dimostrare che è continua perché se non dimostro che è continua non dimostro neanche la derivabilità però questa stessa uguaglianza mi dice una volta che sono arrivato a questa uguaglianza io posso fare anche un altro ragionamento posso dire che quella quantità lì F di X meno F di X con 0 fratto X meno F con 0 in valore assoluto è più piccola del massimo di dF su dX calcolato di X Y su R' fratto il minimo su R' di dF in dY calcolato di X Y allora questo qua è uguale è uguale perché perché allora queste qua sono allora cosa sto dicendo questa formula ha un numeratore e un denominatore quando passa i valori assoluti cioè il valore assoluto e il numeratore per l'assoluto per maggiorare questa frazione basta maggiorare il numeratore e minorare il denominatore ok? allora per maggiorare il numeratore è facile basta vedere il massimo su tutto la realtà tanto quello è un punto del rettario è una funzione continua ecco l'assoluto è un'automina quindi questo massimo viene all'estate cioè non può ci sta anche il minimo sta e dice si però il minimo potrebbe fare 0 no? perché il nostro minimo c'è la scritta da qualche parte eccolo che è la maggiore di 0 quindi questo massimo esiste finito questo rapporto esiste finito quindi cosa ne scopro? scopro che anzi questa cosa la chiamiamo la l che è meglio scopro che f di x meno f di x con 0 è meno uguale di r volte x con 0 su tutti i rettori su tutti cioè però ogni x appartenente a 1 sicuramente a questo punto cosa posso dire? che la persona è colina altro che colina è pure il ciziano di costante l ma se è il ciziano di costante l quando quando x è x con 0 questo è minore o uguale di l di x con 0 quindi x1 tende a x con 0 x2 tende a f e x con 0 quando x tende a x con 0 questo tende a meno la derivata parziale di x per calcolare x con 0 e x con 0 fra passerà questa rispetta x e questa rispetta x carcolare x con 0 x con 0 e quando x tende a x con 0 questo tende alla derivata e quindi abbiamo ottenuto la formula nel punto x con 0 nel momento in cui abbiamo ottenuto la formula nel punto x con 0 in un qualunque altro punto la formula vale uguale perché vale uguale? perché le ipotesi e il teorema del diritto sono soddisfatte allo stesso modo e quindi una volta che la formula vale dapp e tutto in 1 cosa possiamo dire? che la derivata prima è anche continua perché è il rapporto in due funzioni continue il teorema è 2 quindi c0, c0, c0 se c0 vuol dire che la f è c fine del teorema chiaro? quindi questo è il teorema nel caso bidimensionale adesso nel caso generale lo facciamo dopo la pausa però voglio fare un po' di esempi perché fanno capire il senso se vi ricordate bene noi avevamo delle ipotesi che poi abbiamo due cancellate ma l'ipotesi sostanzialmente è che la derivata rispetto a y nel punto di questione fosse diversa da 0 e allora si poteva scrivere la y di inclusione della x andiamo a fare un esempio di applicazione del teorema di grazie a tutti ok allora prendiamo questo caso qui x quadro più y quadro meno 1 uguale questa qua è la mia f di x ok ok allora questo sappiamo bene che no? è la circonferenza dicendo l'origine è raggiunta questa è l'origine questa è l'origine poi punto 1 0 e questa è la mia f di circonferenza disegniamo il monzolo un po' ma non mangi adesso andiamo a fare le derivate in gradiente di e in gradiente di e chi è? 2x 2x allora 2x si annulla in questi punti qua quindi in questi punti qua noi abbiamo la condizione f su x x x uguale a 0 invece su quest'altro due punti qua si annulla df dx quindi quasi nulla df dx df dx quasi nulla df dx altro che non si annulla nessuna delle due guardate che questo rispecchia perfettamente la situazione che ci vuole illustrare il teorema del db perché immaginate di allora di vedere un punto qua questo è un punto cosa dite il teorema del db il teorema del db dice se il vostro piccolo localmente cioè dentro una minestrella è il grafico di una funzione on ok allora cosa dite questo il teorema del db qua la derivata rispetto a y è diversa a 0 si allora io posso trovare una minestrella e questo è un grafico di funzione della x rispetto alla x vedete qua la x varia e la x è cambiato ma posso anche trovare un'altra minestrella se la minestrella invece che è più alta che è larga la prendo più larga di alta posso trovare un'altra minestrella prendendola un po' diversamente in cui la cosa girata cioè la x che facciamo un po' più grande se no non si capisce è la x è la x in questa minestrella qua non è la x non la funzione della x perché qua e qua non ho il valore della x e che il ringwash diciamo insieme degli zeri in quella funzione esce fuori da sotto è da sopra invece che uscire lateralmente però se la g è di 90 gradi è la x che è funzione della y e quale sarà mai la condizione per esprimere la x in funzione della y se per esprimere la y in funzione della x è la derivata parziale rispetto a y diversa da 0 per trovare quest'altro tipo di finestrella la condizione sarà la derivata parziale rispetto a x diversa da 0 non questo vuol dire che vicino a questi punti qua dove le derivate parziali sono diverse da 0 io posso trovare sia una finestrella diciamo per lungo che una finestrella per venticare cioè posso descrivere il mio vincolo localmente sia come una y in funzione della x oppure come una x in funzione della x stammi scegliere andiamo a vedere però cosa succede vicino a uno di questi punti prendiamo per esempio il punto 1,0 allora vedete come è fatto il vincolo qua trovare la finestrella che vi dà la x in funzione della y è possibilissimo questa va benissimo la giri in 90 gradi e questa è una x in funzione della y contraddice il la divinata parziale rispetto a x è diversa da z però la divinata parziale rispetto a y è uguale a z questo potrebbe voler dire che se vuoi fare la y in funzione della x ci sono problemi e ci sono problemi perché quando questi ho adesso accetto la rucola quando sto qua e qualunque finestrella prenda attorno al punto devo prendere un po' di punti di sopra e un po' di punti di sotto ma quando vado a fare il segmento verticale questi punti mi danno due valori sopra la stessa sullo stesso segmento e quindi non posso mai esprimere questo pezzo di vincolo questo pezzo di quell'insieme di 0 come un grafico di funzione della y non è possibile ok quindi qua posso esprimere solo la x in funzione della x localmente qua posso fare come mi pare e capisci bene dal punto di vista algetico x quadro più y quadro uguale 1 y uguale più o meno la radice di 1 meno x quadro x uguale più o meno la radice di 1 meno x quadro e 1 meno y qua queste sono le funzioni y in funzione della x e x in funzione della y quando sto qua questa è lontana da questa quando lo giro in merito quindi se voglio esprimere la x devo vendere quella con più se voglio esprimere la x devo esprimere quella con più quindi nel primo quadrante valgono queste due relazioni valgono tutte e due le posso scrivere tutte e due quindi posso esplicitare sia la x in funzione della x che la x in funzione della x localmente lasciate vendere il resto ma qua vicino l'espressione è quella è verde vicino al punto 0 1 0 però questa funzione ancora benissimo non c'è nessun problema questa no perché diciamo questi appartengono alla determinazione col più e questi altri punti appartengono ancora col meno quindi vicino al punto 1 0 io queste due funzioni non le posso separare e quindi non posso esprimere localmente il mio insieme degli zeri con il grafico di una funzione la f di 1 chiaro? quindi questo problema dimmi e tiene perfettamente l'u perché non è di 1 se non è nulla questo e va bene non puoi esprimere la x in funzione della x se non è nulla questo non puoi esprimere la x in funzione della x non sa nulla la strada 2 puoi esprimere qua domani vai a vedere che ci riesci chiaro? ok andiamo a fare un altro esempio e poi facciamo a me un altro diciamo a me un altro credo due esempi e poi facciamo uno esempio esempio due andiamo a prendere quest'altro pin e beh quest'altro vincolo pure sappiamo ben chi è questa è una coppia di rete la coppia delle architettrici prima che cosa e seconda in quale stavolta allora f in diciamo in diretti e è meno 2x 2x attenzione dove si annulla la derivata parziale rispetto a x sull'asse x ma l'asse y non sta sul vincolo tranne per questo punto qua ma qua si annulla anche l'altra quindi allora qua 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 e qua non si annulla nessuna delle due derivate in questo punto invece si annulla tutte ah e allora come faccio a esprimere non posso in questo caso è perché non posso perché qualunque finestrella voi liate prendi per lungo per l'arco come bandiera come cosa verticale eccetera vedete che ci sta una cruce qua come fai a esprimere quando c'è un incrucio e io c'è come fai a esprimere questo grafico di fusione come lo giri non è un grafico di fusione un grafico di fusione localmente quando tu togli il punto si sconnette in due pezzi quindi quando tu togli questo punto questo si sconnette in quattro pezzi non è possibile chiaro? ok quindi questo esempio fa capire che il terreno del D quelle cose non le posso togliere ci vogliono sono sciarco come vedete voi andiamo a vedere invece un altro esempio esempio 3 f di x y uguale y meno x al quadrato uguale questo va se solo se x meno x uguale 6 se solo se x uguale x quindi questo mio vingolo non è altro che la bisefficio del primo e terzo quadrante stavolta è solo questo vabbè diciamo al quadrato ho andato a due volte ma comunque sempre quella è come insieme sempre quello è e si può descrivere bellissimo sia come la x che usate la x lo fa y uguale x o x uguale y però andiamo a vedere chi è il gradiente di f gradiente di f non è 1 x no è uguale a due volte y meno x che moltiplica meno 1 che è uguale a 0 6 scusate x uguale a 6 cioè questo gradiente o quelle là o sono tutte e due diverse da 0 diciamo sul mio vingolo sono tutte e due uguale a 0 possono anche essere in altri punti alle due se x è uguale no no ho x uguale a x allora sono ambe di due uguale a 0 se x è diverso da x sono ambe di due diverse da 0 detto bene quindi che succede che sul mio vingolo tutte e due le delle altre sono a e allora io non lo posso usare no però ricordatevi che se voi potete usare un dilemma vuol dire che la conseguenza è vera se non lo potete usare non vuol dire che la conseguenza sia falsa spesso se il dilemma è fatto bene se le cose non sono vere la tesi è falsa ma non è necessariamente vera esempio 2 ci piaceva dire che il riposo era un shock però ci sono dei falsi positivi cioè in questo caso le derivate sono nulle ma diciamo il vingolo si può esprimere diciamo non c'è nessun problema a esplicitare la y in funzione della x o la x in funzione della x questo qua è un problema in generale quando tu hai l'equazione f4 uguale a 0 quando tu fai il gradiente di f4 questo è uguale a 2f gradiente di f allora quando lo vai a variare a 0 fine su f uguale a 0 non è nulla ogni volta che succede questo allora automaticamente le forze di pini non possono essere soddisfatte anche se in realtà non c'è nessun problema a esplicitare una delle due variabili ok il teorema del pini si chiama il teorema delle funzioni implicite perché serve appunto a dire che una funzione implicita cioè un'equazione di questo tipo qua può essere in questa equazione qua io posso esplicitare la y non funziona la y ma esplicitare la y questa è comunque la situazione della nostra va bene allora facciamo una pausa grazie a tutti grazie a tutti